E' con grande piacere che annuncio la nascita della nuova piattaforma, la nuova piattaforma che si chiama iSurgeryTube.com è la nostra nuova piattaforma dove abbiamo la possibilità di pubblicare interamente tutti i nostri video a partire dalle testimonianze dei pazienti per arrivare alle dimostrazioni di attivazione e disattivazione della protesi peniena fino agli interventi chirurgici completi. E' la nuova piattaforma che ci permette di far vedere, dimostrare e spiegare soprattutto a una valenza fortemente didattica ai nostri pazienti quello che è possibile fare presso il nostro centro. Purtroppo con le restrizioni che YouTube ha adottato negli ultimi tempi non era più possibile poter pubblicare dei video integrali, soprattutto mostrando sempre a scopo didattico ed educativo delle nudità maschili e quindi abbiamo dovuto switchare e creare una nostra piattaforma, cosa che ci sta dando dei risultati incredibili perché abbiamo una media di 90.000 visualizzazioni al mese, siamo molto molto soddisfatti e quindi siamo sempre più determinati ad implementare questo nostro canale educazionale. Siamo felicissimi grazie, di questo invito tutti quanti a collegarsi al sito, alla piattaforma, lasciamo in descrizione il link diretto per arrivare su i Surgery Tube, siamo molto molto felici di questo nuovo percorso clinico didattico. Grazie, arrivederci. Grazie.